Parcheggi a pagamento con le strisce blu sbiadite e praticamente non più visibili eppure le multe arrivano ugualmente e quanto ha segnalato un cittadino di Isernia residente fuori regione che ha parcheggiato la propria auto in via Umbria inconsapevole della presenza degli stalli a pagamento e al suo ritorno ha trovato sulla macchina una contravvenzione. La vicenda oltre ad essere stata portata all'attenzione di TVI Molise, copia della contravvenzione alla mano è stata segnalata anche sui social con un post pubblicato dal diretto interessato sul gruppo Facebook Obiettivo Isernia. La multa va sottolineato è del tutto lecita dal momento che all'inizio del marciapiedi è regolarmente apposta la segnaletica verticale che indica il parcheggio a tariffa oraria e che segnala anche le fasce della giornata in cui è attivo. Sulla questione nel tempo si sono susseguite diverse sentenze nei diversi gradi di giudizio proprio per normare situazioni simili che a quanto pare non sono affatto infrequenti. L'ultimo verdetto della Cassazione stabilisce che la segnaletica verticale prevalga su quella orizzontale quindi anche senza strisce se è presente la cartellonistica che indica la necessità di dotarsi di ticket ciò è sufficiente affinché gli automobilisti siano obbligati a corrispondere la tariffa prevista ed esporre il tagliando prima di allontanarsi dal veicolo in sosta. Tuttavia permane l'amarezza da parte di chi si è visto notificare l'avviso di sanzione per essere in corso in un errore che avrebbe potuto evitare se le strisce blu fossero state effettivamente presenti e ben visibili perché se è vero che la segnaletica verticale è sufficiente a legittimare una multa rimarca il cittadino sanzionato è anche vero che l'assenza di segnaletica orizzontale sia essa blu o bianca risulta essere quantomeno inopportuna dal momento che rappresenta un'indubbia difficoltà per gli utenti della strada.